arrivo è ok eccoci qua ciao amici miei grandissimi amici allora io saluto tantissimo moris ciao moris ciao grandissimo lord e pippo che dovrebbe entrare a breve perché con la sua grandissima linea non è riuscito a collegarsi in questo momento quindi vabbè iniziamo noi a divertirsi a sparare e a fare un po di warzone ragazzi solo un secondo sono ancora nell'angolino amici miei solo un secondino perché devo condividerla live è un po si è un po si vi vedo vi vedo cattivi vi vedo eccolo qua vieni a grandissimo maurizio che gli ho condiviso la live perfetto adesso te lo vado subito grandissima giulia ciao giulia grande moris mi so sparato qualcosa per sbaglio che cos'è che mi sono sparato il grande pierpaolo vieni vieni live in pierpaolo che ti salutiamo grandissimi ragazzi grandissimi bellissima serata ragazzi divertiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo già solo un secondino ma one second please un secondino 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 dai dai condiviso bravo bravo spacca tutte le bottiglie grande stream elements a nostri element ciao ragazzi ciao mitici grandissimi siamo già in cinque ragazzi per la partita dai 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 stasera dobbiamo fare un sacco un sacco di roba bella in live in live adesso amici amici ok l'ultimo ragazzi sto condividendo su instagram one second clean ciao giuli allora noi ragazzi il mitico moris il mitico lord e il mitico pippo e paolo li sentiamo ragazzi in in party invece tutti gli altri io voi vedrò la chat e se qualcuno parla con voi ragazzi moris e poi vi vi leggo i loro messaggi va bene così almeno riusciamo a rispondere anche tutti i nostri grandi amici ciao sharder guarda che live sharder siamo col mitico moris guarda che figata grazie moris comunque per aver giocato con me sei un grande sei un grande grande lord anche te pierpaolo si dissocia categoricamente dalla sua rete pierpaolo cambia quella rete lì perché fa schifio bella ragazzi ciao dark grandissimo ciao 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 chrizzo grandi ragazzi raga cristian ritorno non più di buonanotte carter ci è posto dopo allora per adesso dovrebbe entrare il mitico pierpaolo però si sinceramente non so l'orario che facciamo scusami moris ogni tanto parlo scusate per la condivisione della live parlo 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 magari anche un po troppo è scusa moris ma devo anche commentare con gli amici ciao vale ciao che paolo ciao tutti siamo in 11 siamo già in 11 amici miei oh c'è qualcuno fuori c'è qualcuno dentro c'è qualcuno dentro gioco gioco ti saluta grande gioco 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 è troppo forte gioco gioco mi ha detto c'è il mitico moris nella tua live e io ho detto sì dobbiamo per forza giocare insieme grande ringrazio anche tuo papà maurizio siete rimasti indiaci bella ragazzi siamo già in 16 ragazzi una mitica serata col mitico moris ciao frizzo o scusate moris e lord parlo tanto ma devo salutare gli amici ok arrivo 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 frizzo o scusate moris ciao ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e poi lunedì sera a lunedì sera faremo sempre delle live vicine con grande moris il grande lord che vedete ale e il dissociatore si è dissociato dalla rete da robin grande robin guarda robin col mitico moris gioca di nuovo giochiamo di nuovo ho matato una persona in memoria siamo morti esattamente scaricato questi sono quelli che hanno vinto vero si è bellissimo gioca di nuovo allora aspetta ho fatto qualcosa annulla la partita con il team gioca ancora con i fai gioca ancora ok l'ho fatto dovrei averlo fatto o non l'ho fatto nuovo partita vai ragazzi dai che facciamo la seconda mega partitozza grandi grandissimo grandissimo moris ma moris fa 170 uccisioni mentre io e te ne facciamo 12 almeno io parlo per me ragazzi io ne faccio tre o quattro proprio sempre io di morti quanti te ne pare ce n'è le mia e oggi ne hai fatto uno siamo arrivati qua eh si infatti oh raga ciao boss buonasera ciao roba le moni ciao boss grande si 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 siamo tutti qui siamo tutti qui ragazzi mi raccomando di iscrivervi al canale se vi avanza un abbonamento fatelo grande chardel se tu mi dai 10 anni no e io ti do 32 anni ve lo faccio scambio vorresti eh ti seguo subito grande grazie boss grazie i pregi di questa cosa allora dei 32 anni il lavoro è mio e tutti i difetti quindi lascia stare tieni i tuoi 10 anni e vai avanti grandissimo grandissimo ma ma sai che probabilmente io ti ho visto se in casa c'è posto va bene chardel rimani dentro rimani dentro che se c'è il posto giochiamo ma chardel tutti lunedì sera vogliamo fare questa serata mitica col mitico moris col mitico maurizio che è il suo papà gioco gioco anche eh e facciamo le serate del lunedì sera così fichissime eh speriamo che vada bene tutto se ci direttiamo un posto ragazzi usate questo tempo per allenarvi poi si farà sul serio dai dai ragazzi mi sento già super mega carico di sparare a tutti c'è un soldato nemico ok moris eccoci qua oh cosa è successo no ok ok rispetto ai mega live di 5 minuti oh f*** live ma perchè io uscire soltanto su non su ciò che vediamo ciao ragazzi grandissima grandissima sei tranquilla sopra la torre e vedi mo lagga oh no eh sì ho visto giusto o buoni no non so il perché c'è mo continua sta arrivando un minuto ha scusato in atto si è dall'aggiornamento che stanno facendo un po' di casino ciao giuli giuli ma giuli giuli ciao 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 mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale di marco trans games che il lunedì facciamo vedere extra miti game extra miti game e ci sono quante kill quante kill kill hai detto una una dai 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 che ne faccio una voglio subito voglio subito una grande giuli grandissima ciao sid buona serata ciao ciao grandissimi ragazzi fine dell'allenamento vediamo cosa avete imparato ragazzi mi ricordo il tempo dove ero andata te lo ricordi tu ero? no io ero andata no io ero andata ritorno ritorno marca un punto di lancio per il team li guiderai tu ormai il gas è troppo vicino alla zona sicura ultimo mega logo sopravvivete per far rientrare i compagni uccisi ottenete punti con le vostre azioni per far ritorno per far ritorno per far ritorno riuscire grande sic allora sto arrivando tutti io sto per arrivare aspetta vai dietro vai dietro dietro della squadra cos'è quella in arrivo nell'area indicatore stazione di acquisto fallo lo faccio non lo uso però ok eccoci qua eccoci qua grandi per paolo grandissimo dai entro in fatti ho vinto gente grazie sono carico ragazzi sono carico stasera carichissimo ciao kiri grandissimo oggi voli sono carico andiamo andiamo stavo quasi morendo eh stavo quasi morendo ragazzi ciao fabrizio mitico grandissimo fabrizio mi raccomando se non sei iscritto iscriviti al canale amico mio iscriviti al canale grandissimo fabrizio amore mi devi aiutare mi devi aiutare amore mio ho una certa età non mi ricordo più dimmi 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 ma ciao morison aspetta dove sei dove stai ti copro io vai troppo veloce ti ho perso aspetta dove sei me dire il movimento no 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 5 prima dalla parte no both aspetta però io ho riannovazione ciao boss auto curato io mi scrivo però devo rivederlo che cosa che cosa è ancora la dove la prima sopra del palazzo ancora 25 non puoi arrenderti manca l'ultima volta la penultima o l'ultima giuri giuri ti riportiamo ok ok eccoli qua quarta volta quarta volta c'è uno su palazzo qui raga questo pensa di ucciderli oh ma che pensa di ucciderli e mi ha ucciso oh ma che non far niente ragazzi incredibile mai visto una cosa del genere sono arrivato già molto grande molly grazie grazie sono morto definitivo ah no posso risolvere no ce la sei no ce la sei fabrizio 5 2 un sacco di nome ti dice ciao molly grande fabrizio grande gioco gioco quanto meno quanto meno quanto meno ma che questo qua ma che tempo ma che tempo ma che tempo scusate ragazzi sono morto malissimo marco sei una pippa grazie per paolo grazie per paolo grande maurizio grande grande spettatore 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 mori sono un grande non ho capito cosa ha detto ha detto che sei bravo sei bravissimo grazie non è ancora finita una cosa è stato con il nemico è stato con il nemico dove siete finiti adesso devo recuperare io mi sono imbucato in un buco bucoso no così sei troppo cassa eccolo là guardalo lì saluta Giovanni vabbè ancora ci stiamo riscaldando meno male che ci stiamo riscaldando saluta Giovanni dice c'è il mitico Fabrizio con tanti numeri ciao stili oh uno mi sa che l'ho quasi segato eh quasi segato ragazzi è incredibile nella jatte c'è uno che si chiama Giovanni per caso c'è uno che si chiama Giovanni allora però Fabrizio penso che stava parlando con te Moritz c'è un soldato nemico bravissimo 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 è perché è un casino ragazzi voi scrivete nella chat io vi devo parlare con con Moritz che è nel party non può vedere i vostri messaggi domani facciamo qualche garezza assolutamente ci chardet si andiamo a gran turismo oh qualcuno mi spara i rinforzi sono in arrivo massima attenzione un tiri nemico ti sta dando la caccia domani di nuovo oh oh l'ho visto no no dai con questo non posso dove si sta dove si sta ragazzi miei amici arriva in gas parco la nuova zona sicura il zai dottor vuol dire resti delle stazioni di acquisto ritocchami oh sta arrivando la sta arrivando la è assoluta uovi nemico attivo ok ragazzi ok raga ok raga sarò io il pilota sono dentro i rinforzi sono in arrivo oh nel rincostro oh sotto varò il passeggero che è successo no stai qua ovi aperti la finestra di ritorno sta per chiudersi l'obiettivo è di minare il bersaglio uovi nemico atti anti terminati prezzi tornati alla normalità eccolo là dai veni allora dov'è che ti vedo ecco chi là ti vedo venite a dall'altra parte arrivo arrivo sei puntino blu giusto moris oh no qualcuno mi sta sparando no il cazzo è quasi addosso eri tra gli ultimi 25 rimasti gioca di nuovo giusto allora no aspetta aspetta un secondo gioca ancora con il team giusto moris si ok ok divi tutto grande 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 di tutto di tutto ok allora a parte ecco allora se volete vedere come si gioca a warzona guardate a moris se volete vedere come non si gioca a warzone su alzati e a marco drowns games Sì, sono e ragazzi Ma si gioca per divertirsi amici miei Si fa una bella serata che viene, si diverte, si vive e si scherza, giusto Moris, giusto, si vive e si scherza, si fa una bella serata Però una vittoria c'è Eh, almeno una vittoria bisogna farla E invece Marco per botta di fortuna, la notte è in giovane boss, hai ragione Per botta di fortuna Marco ha trovato uno di fermo e si è fatto ammazzare Ma perché ci mette tutto questo tempo? Non trovo partito Giocare ancora con il compagno di team Allora quando fa così io annullo e riavvio Ok, quindi allora abbandona partita con i party Con i party, bravo Ok Bella ragazzi, io ho giocato parecchio a sto gioco ma Allora, Rebeard ritorno, terzetti, giusto? Si vede tantissimo qua Gioco gioco, mi sa di sì Grande gioco Cosa ha detto boss? Che dicendo gioco gioco mi sa di sì Ciao azienda Ah, la notte è giovane, eh sì Gioco gioco dice che la notte è giovane Anche il ragazzo, chi è che l'ha detto prima? L'aveva detto? E boss 0 Forza coi sondaggi Forza coi sondaggi Grandi ragazzi, dai, dai, dai Ciao amici Ciao amici, è un piacere avervi nella live con noi C'è il mitico Morris Il mitico Lord E tra un po' arriva Peppe Il mitico Pierpaolo Il dissociatore ragazzi Iscrivetevi al mio canale di Marco Drums Games Che faremo live fighissime tutti i lunedì Per palo fa il bravino Esatto, è il vostro codice Iban mi raccomando E beh, quello sì, ma lo diciamo dopo Lord Prima falli iscrivere Dopo Usate questo tempo per allenarvi Allora, eh, di... no, però... io vorrei capire dove proprio.. dove ci dice lui ma... Sto arrivando un nemico! Attenzione in alto! Io sono morto a un preciso. Allora, ero due quarters. Ah, ok, ok. Sì. È in mezzo. È in mezzo. Vado a due quarters. Allora, quindi sei sul tetto, giusto? Ciao Black! Cugino di Andrea. Ciao! Ciao Black! Il cugino di Andrea. Cugino di Andrea. Cugino di Andrea. Cugino di Andrea. Sì, è un video. E' qua, dai. Sì, no. È un video di questa, l'altra. Sì, è un video. È un video. Dentro di questa c'è un'arma. È una... una scheda andando a una terza parte della mappa e si la sede ti da ehm tutti nella zona sicura il pass si avvicina rapidamente guarda dai dai che ti seguo sopravvivete per far rientrare i compagni uccisi ottenete punti con le vostre azioni per farle tornare più in fretta non ho mai preso questa arma non ci sono mai arrivati no davvero dai te la prendiamo grandissimo ok io sono su eh sono su ma c'è dentro uno qui c'è uno qui no scusate ragazzi ciao chander scusate ragazzi ciao ciao senza farci uccidere senza farmi uccidere non ho ammattato il mitico mori mori non ho ammattato il mitico mori con i suoi due tracce attenzione oh raga ciao marcello come si suonire ma quanto si fa 30 minuti per paolo dai 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 non ho ammattato il mitico mori no davvero ragazzi che cosa questo è fatto veramente schifo scusate scusate a tutti i ragazzi sono qui sono qui con noi ragazzi ciao 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 brasil ciao ciao mi dico allora io perché sto vedendo io ti sto vedendo vediamo ti sto vedendo ma voi non siete ancora mi hanno colpito mi hanno colpito come no capirai io mi hai visto da me di più che è sempre morto allora è morto che è vivo no è morto ah e perché si fa vedere sta roba possiamo uscire perché devi riavviare una partita io non dicevo che volevo fare lo faccio impossibile allora abbandona il party ah ecco perché vedevo un altro infatti dice oh come sto andando bene ciao marcello beso allora dai 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 morison dai sbloccati morison dai sbloccati morison dai sbloccati boss 0303 ti sto dicendo è tutto del brasil ahahah grande parco danza ha abbandonato il fattico no sei serio perché a me me è comparsa di goncina a me non lo so eh cosa è successo sono uscito da solo forse no no non ne ho abbandonato no perché a me era venuta una una notifica che dicevo abbandonato ciao amici qui aspetta no io sto vedendo aspetta marco drums moris non sto vedendo te allora aspetta che ti rinvito sono stato cacciato via a me che faccio schifo a essere cacciato così no secondo me ti hanno cacciato via perché sei un po' scarsino eh ahahah ma c'è una cosa dimmi posso avviarla cioè posso avviarla io sono invitata lui sì come faccio a passarti e te come come capo no ormai l'ho già fatto ah ok perfetto posso che tu inviti a lui e abbiamo fatto ok io invito a lui allora ah perfetto ecco perfetto ma è arrivata adesso l'invito perfetto perfetto è un po' lentino ragazzi perché l'online diciamo di warzone è un po' un po' che legausto super felice anche noi marcello si sono entrato nel bar non mi è arrivata nessuna notifica però aspetta un secondo eh stai arrivando andata il legale e sto super felice si è il mio cognato il mio cognato giuli abbiamo avuto risposta al tuo nuovo leader parte in tempo quindi il leader non cambierà ok io sono con Ale dove sei Morris? no ti ho invitato ma ti arrivo ok ok sei arrivato adesso aspetta che lo dico ok ecco di qua perfetto stiamo andando eh da Morris adesso invito a lui sì ciao guru mi raccomando come si parla? iscrivetevi ehm no canal iscrivetevi al mio canale ragazzi allora adesso invito internazionale eh certo Bragali internazionale gioco gioco adesso arriva adesso arriva adesso arriva ecco ragazzi 43 minuti oh sentite il grande Pippo ciao Pippo benvenuto in live buonasera a tutti ciao grandissimo un saluto particolare a Marco che mi dissocio da lui ah ci siete tutti grazie eh grazie Pippo puoi anche mutarti adesso ahahahahah eh se ti sei associato puoi anche mutarti no scherzo dai no aspettare per un po' l'aggiornamento eh si Sharder eh ragazzi la partita come va? va benissimo quanta fantastica certe vittorie amico mia uh i numeri diciamo che eh ti dissocio sempre da lord eh diciamo che Morris deve poverino ahahah avere due compagni molto scarsi ti stai facendo perdere la reputazione a quel poverino ahahah no dai però siamo simpatici ahahah siamo simpatici dai dai ma noi stiamo giocando amici di Twitch noi stiamo giocando per divertirci insieme a voi guarda Boss che ride ahahah noi stiamo giocando solo per divertirci ragazzi quindi tranquilli relax in puro relax e poi stiamo imparando da grande Morris eh tutti i passi come si fa a muoversi quindi vedi Boss mi sto divertendo grande Boss grandissimo così ti voglio le live divertenti dove ci divertiamo dove voi vi iscrivete il canale dove voi vi abbonate e dove vi do Liban e mi date un sacco di soldi queste live qui mi piacciono a me ma Morris è un grande Boss è un grande Morris davvero questo è la buona io saluto Maurizio eh Maurizio eccolo Maurizio gran manca poco allo schieramento preparateli a dovere che è abbiamo i contatti mi hanno colpito No, perché devi mettere quello il tuo baggiamento, anche se sei fattato, quello che ho messo nei preferiti ti arriva prima. Però anche se hai messo un altro, il tuo baggiamento ti dà quello. Fine dell'allenamento, vediamo cosa avete imparato. Sì, lo dobbiamo solo... Sopravvivete per farli entrare i compagni uccisi, ottenete tutti con le vostre azioni per farli tornare più in fretta. Seguito il canale! Oh, ci sono tutti sui tessi, ragazzi! No, ragazzi, ci sono tutti sui tessi. Ma come mai ci sono tutti sui tessi? Un uccidante i nemici senza che lo facciano loro! Sono tutti sui tessi. Beh, sono in una situazione un pochino difficile. Grande, vieni, vieni! Attenzione, c'è un... ...helicopter? Helicopter? Ne ho visto uno! Attacco a grappolo nemico! Al riparo! Uno è rispettato! Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? No, 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 no! C'era un botto di roba, ragazzi! Cosa c'è qua? 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 Puoi tornare in azione! Dai, 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 raga! Mi sto caricando come un fucile! Dai, dai, gioco! Ma come la c'è qua? Come la c'è qua? Allora, qui c'è un tipo che ha preso praticamente l'impossibile, ragazzi. Io ve lo dico. Questo si è preso tantissima roba, eh! Sta arrivando un nemico! Attenzione in alto! Non è troppo! Non so il perché! Eh, perché siamo anche in gruppo, mi sa, sai? Mangio le mani! Sette caricatori! No, ti ho detto che quello lì... Quello lì che ho... Non so se l'ho ammazzato io o una collaborazione per ammazzarlo. È stato... No! Siamo ammorti tutti? Sì! Siamo, Pierpaolo arriva fra 37 minuti, poi c'è Lord, il mitico Morris e Marco Drums. Chi? Meglio del così? Per fare il tipo? Eh, non lo so, Amor, non lo sai come te l'ho già detto. Comunque venite sempre da Morris, eh! Sì, sì! Allora, come dice Gioco, come dice tutti gli altri amici in chat, ragazzi, noi stiamo imparando da Morris, eh! Ma, ma, Morris stasera si sta rilassando, stiamo giocando, stiamo tra amici, non c'è la competizione, eh! Quindi, siamo tutti tranquilli, tutti rilassati, ciao Vale! Ciao! E stiamo soltanto giocando tra amici, vero Morris? Così, tranquilli! Sì! Grande, grande, grande! Poi, io e il grande Lord, stiamo imparando, pian pianino! Esatto! Esatto! Ma, non ci riuscirete! Sì, eh! Una vittoria ci vuole, Ghira, è vero, è vero! Dalla Germania ci dicono che una vittoria ci vuole, grandissimo! Ovvio! Dal Brasile anche, poi c'è anche il mitico Kiri, che adesso non lo vedo in questo momento, che scrive, ma dall'Inghilterra, siamo internazionali, ragazzi! International! Qui, poi nel party c'è... oh, ma sta caricando qualcosa, vero, a voi? No? Sì, sì! Sì, anche a me! Ok! E poi c'è tutta Italia qua, eh, dal nord a sud, quindi ragazzi siamo tutti, tutti, tutti presenti, tutti per giocare e divertirsi col mitico Marco Drums Games! E, mi raccomando, abbonatevi al canale, eh! Abbonatemi, fatemi un buon momento! Che si fai tra di soldini la faccia nostra! International! International! Ok, ok, ragazzi! Ok, ok, allora! Partiamo subito... Che piello! Ha, 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 ha! Grazie, Chad! Mamma mia che gare, che gare abbiamo fatto ieri in Italia, ragazzi, in Gran Turismo! Bella, bella, bella! Che divertenti anche! Qui sia da l'uomo! Che gare! Amma mia cobona è veicinante... Ma quant'è? Iniziano? si vince si vince se non si vince fa nulla ho visto che uno l'ho mattato due no che hacker chardel dai 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 basta giocare prepararsi all'aggio sulla zona di guerra point 6 i jj ragazzi eravamo abbiamo fatto una partita di riscaldamento nel live abbiamo fatto un capolavoro vero moris capolavoro ritorno, guarda un punto di lancio per il team, ti guiderai tu ormai il gas è troppo vicino, alla zona sicura bella lì gli alleati caduti possono rischierarsi finché rimanete inizio guadagnate fondi per farli tornare prima c'è troppa gente, c'è troppa gente ragazzi io sono qui, finito, ti ho visto affacciare moris? uccidete i nemici senza che lo facciano loro non mi fai da esco, non mi fai da esco io l'ho colpita, io l'ho colpita oh sei morto già è arrivato dalla allora, ci vuole però che abbassi leggermente un po' la musica puoi tornare in azione c'è musica nel gioco? uapinemico attivo aiuto ecco ah, stanzia, non c'è c'è via i musmi del gioco aspetta eh aspetta eh io uno lo chiesato aspetta eh sto cercando di seguire quelli più più muoio io arrivo nell'area membro della squadra in rietro ecco un altro, ecco un altro no, dai forse va, ma faccio un altro cazzo sono sul pezzo io eh moris, non so dove sei eh ecco li da è stato, è stato orribile è stato bruttissimo vedere Marco Trams così poverissimo è vero, sei morto vicino a te Marco non sono riuscito a arrivare eh, ho visto, ho visto questo fa male, è vero Charler? grande fa malissimo, fa malissimo non è, non è stata una bella cosa è stato il classico vextape alla da solo si però è un consiglio mio Marco eh se il papà devo vedere eh non ha perché sinceramente non c'è eh una funzione giù lì di ehm io ho dato questo eh lo so adesso devo andare a vedere se quando mi fa mi carica la partita c'è una funzione di abbassare l'audio adesso vado a vedere nelle impostazioni audio del gioco eh eh perché purtroppo sono facendo con il programma come fa Thor eh lui riesce a a fare proprio col mixer abbassare tutto la voce piuttosto che invece io no capito Giulie adesso vado a vedere però eh grazie della della info perché se no grande Maurizio grande Maurizio facciamo un sondaggio aspetta ci mette un casino di tempo ragazzi però tra una partita e l'altra eh ma se poi dice che sono tutti 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 i sondaggi c'è la mitica Carlina stasera domani ti aspetto eh Giulie domani con gran turismo capito che sta dentro sì 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 domani le farò tranquilli grandissima brava 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 così ti voglio allora Maurizio il discorso è questo qui hai due zavorre dietro da portarti dietro che non ti danno la mano quindi ti chiediamo scusa a presidere un bel sondaggio e scrivi Marco Drums Games è bravo bravissimo extra bravo il più bravo del mondo o scarso io mi sto divertendo con voi grande grande Maurizio grande è questo che voglio io è questo che voglio Maurizio devo diventare aspetta un attimo divi tutto Maurizio devo diventare più feroce lo faccio ma quello che vuoi tu io sto imparando da te stasera perché sinceramente se giocavano i miei figli erano più bravi io me la canzio ma che poco lo schieramento preparateli a dovere magari fortuna però si anch'io anch'io il cantamento sui tetti è una mia arte più calvinia più lì se poi le altre le facciamo più belle spinte con cacineria ma noi andiamo e ci divertiamo ragazzi quello che vedi che oggi questo era un soffio un spacchista dai 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 sharder vieni dentro diciamo che la lobby di sharder vieni dentro chiacchieriamo tranquillo non c'è problema la lobby è da quattro è fatta però ti ripeto che grande Mauriz Maurizio come si dice ne faremo altre la Giulia c'ha la Giulia a Calabria grande Giulia tutto pronto la zona di guerra vi aspetta bravissima brava 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 mi piace mi piace allora io ti seguo tu vai e noi seguiamo vero ragazzi della charge noi seguiamo tutti 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 Morris che lui va ritorni la non c'è il puntatore tutto come no non stai andando troppo in gold no ma guadagnate e per farli tornare prima ragazzi io credo sopra il corligione c'è un'arma guarda fate piazza pulita nei bersagli c'è un problema chi è chi è chi è chi chi è chi è chi è dai scarica sto gioco guido io bravissimo guido io ho trovato delle armi ora gare se mi vedete dove sei dove sei dove sei lo sto furando ragazzi sto furando perché qui non si può stare un secondo in pace ah ti vedo ti vedo io sono giù da basso Ale ti vedo sei su con la macchina si ma sono rimasto incrastato 2400 dove sei Morris non ti vedo sei sotto ecco che ti vedo ecco che ti vedo ecco che ti vedo 2600 sto facendo un calcolo per il ok sono dietro di te oh che prendo una bella dammi soldi dove sono dove sono guardi tu ce l'hai io ho i soldi e come faccio dateli tieni premuto precetta in basso nel mentre vai sui soldi e premi quadrato così non so in niente se no avrei dati tieni tieni ah gli do io che me ne frega anzi è un piacere pagare Morris no questa cosa non è bella no vabbè che c'è spazio e si è vero dai 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 aspetta 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 no povero marco transgames che cosa arriva con questa roba verde sicchissima lascio di equipaggiamento per voi qualcuno spara non lo so che cosa è questa roba qua verde chi fa comprare le gott vabbè 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 spacca tutto spacca tutto vabbè 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 Sulla macchina? Oh mi raccomando vai piano eh, io c'ho paura. Vai piano! Volevi, volevi i soldi! Toglietevi, qui do io! Uccide il tosso, Morris! Parola il passeggero! Sto visto dove c'è tra iui mentre andava. Ioli e spiori già in durismo Morris, se tu mi dai lezioni mi devi sparare. Dai dai, facciamo una cosa con lei. Dai oddio, non è che puoi. Charger ti dovrà guidare il gioco. C'è uno che mi tocco! Sulla porta! Arriva il gas! Barco la nuova zona sicura! La macchina è tozza eh! Dovrei guidarle io le macchine col volante ragazzi eh! Attacco a grappolo nemico! Alla riparo! Andiamo a andare qua! Dai infatti! Oh no! Quante macchine di questo tipo ti ho trovato? Eh... Poi è diventato grande lì giù! Dai infatti! Adesso facciamo tutta la mappa girare e vinciamo perché tra gli altri si spara, noi siamo tanti! Visto che ci divertiamo! Eh no, no! Non ci sparano però no! Eh no! Non ci sparano non è tanto male! Ma ci ti facciamo tutto il giro! Dai vai vai! Non vuoi parlare da lei? Ma che almeno duriamo un po' di più sennò eravamo già morti! Nemico in arrivo nell'area! Almeno possiamo dire ragazzi non abbiamo vinto niente di una buona! Un sacco di macchina! Un sacco di tempo in macchina! Un sacco di tempo in macchina! Un sacco di rotare! Un sacco di macchina! In via... oh c'è qualcuno qui però eh! Sei! Oooooohh! Chi ci ha fatto esplodere? E ci ha visto girare come dei batti e ha detto aspetta che metto le mine che adesso rifanno il giro ancora Ciao Fede! Oh ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di Marco Tranchi e inseriteci! Ciao Fede, Federico no, Fede! Sì, grande, grande Fede! No, è venuto dopo! No Federico! Ciao Fede, Federico Penti, molto bene! Brava! Brava, brava, brava! Leggi, leggi tutto che noi non riusciamo a leggere ragazzi! Ecco Kiri! Ciao Kiri! Grande Kiri! Stasera ragazzi c'è Brasile, Italia E si perde le vittorie più straordinarie del mondo su Watt Grande Fede! Fede si iscrive subito, grazie! Dai, interagisci anche te amo! E non so, interagisci, parla anche tu, commenta amore mio! Guardate che bello il cartonato! Ci puoi anche dire quanto siamo bravi in questo sciuoco! Il cartonato! Stefania, grandissima Stefi, un mega cartonato del grande logo di Marco Drums Games amici! Siamo su Rebird, siamo su Warzone! E' bello che ancora non sta trovando la partita! Sì! Ancora siamo in lobby! Sì, del canale di Marco Drums Games! Bravissima, bravissima ragazzi! E' vero, è vero, è vero, è vero Morris! Intanto il gioco non va avanti! E' partita! E' partita dalla partita! Dobbiamo dirlo Morris eh! Perché anche prima quando dicevamo non trova la partita non trova, l'ha trovata subito! Dobbiamo dirlo! Eh, il gioco non trova la partita, almeno giochiamo! Sì! E' vero o no? E' così anche prima! Oh prima! Pierpaolo 19 minuti! Pierpaolo sta... Dai fatti... Fatti un bicchierino di vino! Ti sei iscritto! Grazie boss! Grazie mille! Fittico! No! Vabbè non morire così! Ti sei iscritto sono morto così! Dai aspetta che mi impegni un po'! All'iscrizione sono morto Morris! Mi fa mi sono iscritto Pruse, morto malissimo! Vabbè ma qui... Qui è la pre lobby! Grande! E' che la... Gli amici... Gli amici... Gli amici non si vedono... Però gra... Oh 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 oh! Mori si sta saldando raga! Come ti dico? Drums una kill! Dai dai dai! Dai dai dai! Che bugia è! Uh! Io saltello! Oh 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 oh! Cosa sta succedendo? Preparazione! Preparazione raga! Sì! 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 Dico dove c'è quella macchina e ci ritorno! Ritorno! Sì dai 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 dai! Giunti nella zona sicurale! No no no! Andiamo nell'eliquattro! Si avvicina rapidamente! Se ci abbiamo nell'eliquattro lo vuoi dare... Prima io devo vedere se c'è l'arma quello... Ma dove sono loro? Dove c'è l'elicottero? Prendiamo l'elicottero e andiamo! Aspetta! Aspetta! Io sono l'elicottero ma mi aspetta! Lo voglio un po' che mi dà! Eh... Al... Dimmi il tuo nome... Ale è dritto perché sennò... Ale! 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 Alperatore ognuno! Ragazzi! Sono riuscito a arrivare da voi! La priorità è uccidere tutti i nemici! Uccidissimo! All'attacco! Ahahah! Marco Dramo è fortissimo! Oh! Cosa faccio a mano io qua? Lascia! Non lo so! Qui c'è un fucile da salvo! Non lo so! Oh! Ma che belle orbiette! Belle! Hai venito! Diamo! 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 Alle torrette! Che sono un tiro! Che faccio dalla torretta? Farò il passeggero! Marco tu non gli sei all'elicottero! Allora sali sull'elicottero! Scrappi un passaggio! Vai! Vai! Ah! Scusa! Scusa ragazzi! Ok! Dai che li seguiamo tutti! Oh! La vedo! La vedo! La vedo! La vedo! La vedo! La vedo bene questa partita ragazzi! Si sta vedendo già il mal di nave! Però! Non lo so! La troppa! La troppa! Uh! Tome! 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 No! No! mi hanno colpita mi hanno colpita io sono morto raga bellissima raga è stata troppo bella però abbia fatto 1300 punti grande boss no guarda kiri il bello è che non si gioca più con macchine elicotteri ma questa veramente ce la giochiamo veramente o ragazzi della chat basta basta casino non si scrive più si diventa ok no voi scrivete allora scusate io ho inteso male tu non devi leggere ok la giudice di socia perfetto perfetto il dissociatore quanto manca quanto manca sto internet il dissociatore pier la giudice di socia grande pippa il sugo a la mano a collo schieramento pari pari io salio a testa io ragazzi mi rispettavo con le tre partite cosa ne pensate? questo è un soldato nemico questo è un soldato nemico sto facendo di brutto eeeh caggia 8 marco trans mamma mia un tazzo a terra c'è un soldato nemico qui è la lobby prepartita dai 13 grande a me ce l'ha gaspito bella vita oh oh sono a livello 49 ragazzi per cazzo che non è la partita ahahah oh ma qui sono già in partita no è a livello mio basta scherzare inizia la vera battaglia ma tu vedrai che io sono su di livello ma non lo faccio io la notte di me non mai ma no no è una è una è una è una non c'è tempo che non ci vado ti devo andare io sto andando con la vicina fosse dove e l'ho messo e dovete aspettare che fanno ritorno indica un punto di lancio per il team il gas si sta avvicinando meglio se iniziate a correre guarda noi facciamo live in questo tipo di video io dovevo anche te? anche te arrivo ragazzi sto arrivando la priorità è uccidere tutti ieri muori 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 un film nemico ti stacca dalla caccia arrivo 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 15 secondi sono dietro da te 15 secondi sono subito da lei 15 secondi sono subito da lei 15 secondi sono subito da lei ok hai un'altra occasione sfruttala bene ok siete sotto di me arrivo eh bravissima uapi nemico attivo sta arrivando un nemico attenzione in alto si sono qui ma dov'è che non lo vedo marco oh arriva arriva ma dai nooo staterina io ho un contatto ho subendo il fuoco nemico marco l'albero potete andare a moris si chi hai ragione hai ragione scusa scusa moris hai un'altra opportunità per fare la differenza un tuo alleato è appena rientrato uapi nemico attivo ma prova a sentire prova a sentire così giuri non lo posso uccidere penso che non ci posso andare ok vado qui vado qui ok un altro ammazzato aiuto troverete veloci penso dietro lì aspetta dove sei dove sei dove sei maiotino dove sei dove sei dove sei dove sei tu uno l'ho massato uno l'ho massato grazie 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 è meglio giuri scusa giuri sta arrivando un nemico ho abbastato il volume come hai detto prima è un po' meglio? più mitragliette ne avete? no aspetta gli ho presi gli ho presi gli ho presi ma sei fortissimo grande dai che stiamo ammazzando ragazzi oh ci stiamo scaldando ragazzi ci è voluto 27 partite però adesso me la devi contare che 26 22 25 sono state con macchine e motori bravo bravo che praticamente 25 l'abbiamo giocato su si abbiamo giocato su turismo è vero è vero abbiamo fatto gran turismo e world oh come sei morto aspetta aspetta aiuto corri faccio di equipaggiamento per voi no 1 uno 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 no 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 ciao vieni ancora aspetta che sto arrivando eccoci qui eccoci qua si si ma infatti grande feel buona serata grandissimo mitico allora siamo allora arrivo ce n'è uno ce n'è uno rosso ciao feel grande sarder aspetta che qua giù c'è c'è gente c'è tantissima dappertutto escono dalle pareti escono dalle pareti attacco a grande pallone io sono dentro che arrivo a pia grande pia dai 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 stiamo arrivano ma voi siete andati da qua ah grazie arrivano 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 dove ero io dove ero tu prima arrivo arrivo mamma mia che spavento che spavento grazie feel grazie a fuoco guardalo non ho l'arma carica no è ancora finita dai dai sono nato sono nato aspetta 7 nati ci si sono tutti nella zona sicura ora però credo che c'è tanta di quelle armi giù finisce molto giocatte anche col fuori si 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 mi hanno matato 1 a 1 grandi ragazzi sto sudando stasera stiamo facendo stiamo facendo stiamo facendo adesso si vede il paolo cecchinatore di valese ci sono ragazzi ci sono male ci sono male arrivo arrivo ho fatto una strage qui stavo morendo eh ve lo dico malissimo tra l'altro che non ho tanto sparato arriva il gas barco la nuova zona sicura sono io che apro la porta sono io che mi hai fatto ma quanto hai detto che ti ammazzato quando hai detto raga vediamo un attimo qui, io sto saltellando per vedere se c'è qualcosa curiamo, curiamo, curiamo io vedo attraverso no, mega bug mega bug è un superpotere moris il potere di moris ma un laggio che sta arrivando non mi carica mai col mirino passi in arrivo cerchio riduzione il pistolero barboso, hai ragione arriva, arriva io mi sto qua sul cornicione arriva, 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 arriva uno con siamo nella zona sicura occhio ai nemici con il paracadute l'ho visto no, sono caduto no io non vedo il mirino no, questa è una cosa molto brutta sì, però almeno vedo attraverso il terreno questa è una cosa positiva ritorno non più di cornicione arriva bene passi in arrivo c'è una nuova zona sicura mancano 50 secondi hai ragione boss hai ragione dove? non arriviamo oh ma dobbiamo spostarci o sbaglio? attacco a grappolo nemico non ti preoccupare per l'attacco a grappolo non è un'altra non è un'altra non è un'altra si sono solo un giro vai, 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 vieni vai, siamo dentro, siamo dentro ok, ok siamo dentro uh, bella aspetta aspetta dove è moris? aspetta andiamo da lì la mano è sopra è sopra madonna come fuori moris ci ha fatto un quick un quickscop che questo proprio oh ma hai fatto venire un colpo moris non fai un grido ahahah non ci sono rimasti in 10 forza sta vedendo l'imparto aspetta che vado a chiedere ma che è arrivato? chi è che è arrivato? dissociatore allora qualche minuto qualche minuto ancora mamma mia lo prendo con me un'ora ok ci domani ha una cassa di scorte si si moris sta parlando di brutto raga boss sta dicendo moris è sbloccato ma moris non è mai stato bloccato è che si stiamo divertendo boss partecipate su un altro morto un altro grande moris dai oh aiuto aiuto oh ha malapena in piedi ma non lo so 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 oh mio dio e cosa facciamo? due minuti arrivo che ci siamo non ci raga oh oh ah no io non ci sono scusa 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 ah è qui? madonna che fortuna e dico in arrivo nell'area perché sei uscito? eh torta 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 oh oh dio allora ha vinto moris ha vinto moris però abbiamo vinto tutti allora moris ma moris diciamo che 16 che è il base il minimo è il minimo proprio sei stato bravissimo moris guardano dillo di lavoro è stato grandissimo moris grande anche mia moglie bravo grazie vale mamma mia moris hai fatto un bravissimo l'ultimo l'ultimo me lo sono fatto col coltellino io ho lanciato il coltellino avevi finito avevo mai finito tutto moris avevi finito tutto gli hai lanciato il coltello le hai lanciato la forchetta perché le scarpe grande marco il cecchinatore di varese bravo allora ci sei usciamo e facciamo entrare anche te 30 secondi 30 secondi possiamo uscire 30 secondi mi vado a prendere una cosa da mangiare che sono molto bravo si fate con comodo bravissimo ritorno su